Ora all'inizio l'incontro cellule staminali tra gioco e realtà. Conduce Cesare Martinetti, Gilberto Corbellini, Gianvito Martino e Vladimiro Zagrebelsky. Buonasera, parliamo di cellule staminali e possiamo non parlare di stamina, del caso stamina che peraltro proprio ieri ha avuto una sua attualità con la vicenda dell'infusione che è stata autorizzata da un giudice di Pesaro per un bambino a Brescia. Parleremo con calma di tutto questo. È una vicenda, quella di stamina, molto complessa. È una vicenda che è piena di risvolti naturalmente innanzitutto sanitari, di salute, poi giuridici, dei riflessi di politica perché la politica della salute è importante e con la particolarità che riguardando la salute della gente e quindi le attese di salute soprattutto per dei malati, quelli che si rivolgono a stamina e quelli che aspettano dalle staminali una soluzione per la loro malattia sono ovviamente dei malati gravi, ci sono le famiglie che soffrono, eccetera. Quindi insomma è una vicenda con un'enorme complessità di elementi sui quali cercheremo questa sera di ragionare. Ci sono Gilberto Corbellini che insegna all'Università Sapienza, la storia della medicina, etica della salute. Vladimiro Zagrebelsky, giurista, è stato per lunghi anni giudice a Torino, è stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura quindi potrà anche dirci come la magistratura nel suo complesso può regolarsi rispetto ai tanti casi diversi sui quali si sono pronunciati i giudici anche in modo contraddittorio della vicenda stamina e c'è Gianvito Martino che dirige l'Istituto di Neurologia dell'ospedale San Raffaele di Milano ricercatore da molti anni sulle staminali che quindi ci dirà dal punto di vista del medico qual è lo scenario che possiamo aspettarci sulla salute e sulle staminali. Ecco, io darei per primo la parola a Gilberto Corbellini che ci spieghi che cos'è il caso stamina che cosa rappresenta nella società e nella politica italiana nel modo di gestire la salute italiana. Sì, grazie per l'invito. Il caso stamina è una vicenda molto triste, a mio parere è un po' una cartina di tornasole del degrado culturale per certi aspetti un po' anche politico in cui versa questo paese. Io di solito faccio un esempio, insomma negli ultimi due anni ho calcolato che almeno 12 persone che negli Stati Uniti proponevano trattamenti anche più puliti di quelli che proponeva la fondazione stamina sono stati arrestati dall'FBI, cioè sono stati arrestati perché l'FBI ha un ufficio che si occupa precisamente di trovare persone che propongono trattamenti a base di cosiddette staminali e che però non hanno superato i controlli di sicurezza e di qualità previsti della Food and Drug Administration che è l'equivalente di AIFA. Quindi perché in Italia ha potuto esserci il caso stamina? Non certo perché siano mancati coloro che avrebbero molto presto arrestato o che hanno comunque chiesto un mandato di cattura per Banoni e Andolina circa due anni fa, ovvero i carabinieri dei NAS non certo perché AIFA non abbia fatto quello che era suo compito fare anche se in una prima fase qualcuno non ha valutato attentamente le ricadute o quantomeno i rischi del fenomeno però dal 15 maggio del 2012 esiste un'ordinanza, l'unica che sia mai stata fatta da AIFA che bloccava il caso stamina e che è l'ordinanza che poi i giudici disapplicavano sistematicamente per prescrivere questo pseudotrattamento. Il caso stamina è un caso, io studio storie della medicina e dico sempre ai miei studenti insomma che i ciarlatani esistono da sempre, se uno va a leggersi le prime pagine i primi paragrafi del demorbo sacro di Ippocrate o dell'autore che viene conosciuto come Ippocratico è una invettiva contro i ciarlatani, contro gli impostori eccetera e Ippocrate banalmente ne parla dicendo guardate questi che credono che l'epilessia sia una malattia sacra ma io vi faccio vedere che l'epilessia non è una malattia sacra eccetera eccetera e poi sono sempre appunto esistiti hanno cominciato a entrare in crisi quando la medicina è diventata una medicina scientifica sono entrati sempre più in crisi nei decenni ultimi però ovviamente io penso che negli ultimi anni per i ciarlatani cioè per le persone che propongono o illudono i malati che non possono guarire, che sono colpiti da malattie per le quali al momento non c'è una cura penso che negli ultimi decenni la loro presenza sia aumentata e che possa aumentare anche perché queste malattie per le quali non ci sono cure cominceranno a diventare abbastanza rilevanti nei prossimi anni Stamina parte di fatto una decina d'anni fa quando un signore che è questo Davide Vannoni che ha una laurea in filosofia se non sbaglio che comunque insomma insegna scienze della comunicazione si insegnava scienze della comunicazione all'università di Urbino ha un problema diciamo di una paresi facciale va in Ucraina dove già allora venivano praticati o promessi guarigioni miracolose usando cellule staminali e si fa trattare per questa paresi che voi stessi potete vedere insomma anche se lo guardate in televisione che effettivamente il trattamento non deve aver sortito grandi effetti positivi grandi miglioramenti e comunque quelli sono gli anni in cui in alcuni paesi non solo l'Ucraina la Thailandia la Cina eccetera si cominciano ma anche in qualche paese europeo a un certo punto come la Germania si cominciano a proporre dei trattamenti a base di queste cellule che ormai sono diventate cellule di cui basta sentire il nome e le persone già si sentono bene sono diventate cellule che sembra che possono guarire quasi tutto in questi paesi queste cellule vengono proposte in infusioni c'è queste cellule poi ne parlerà già Vito Martino meglio di me vengono proposte per qualsiasi tipo di trattamento che vanno da una lesione spinale a una malattia cronica all'impotenza all'autismo alla depressione insomma qualsiasi cosa può essere curata e ovviamente ci vanno soprattutto le persone con malattie gravi per le quali appunto non ci sono trattamenti e costa dai dai 20 ai 30 40 mila euro circa a seconda di dove si va se poi si prende anche l'albergo il trattamento completo e cose di questo genere e ovviamente Vannoni pensava di poter fare un'operazione come questa come quella anche in Italia infatti viene in Italia si porta presso due scienziati russi due istorogi russi che erano quelli che preparavano le staminali in Ucraina e poi comincia una operazione che nel giro di alcuni anni lo porta a fare una serie di trattamenti che si fa pagare circa 20 mila euro l'uno prima li fa Torino poi li fa San Marino poi arriva Trieste conosce Andolina poi insieme a Andolina riescono a entrare negli ospedali civili di Brescia e in tutta questa fase inseguiti dai NAS e con un'inchiesta aperta dal procuratore di Torino Guarignello in data che adesso non ricordo ma credo che sia il 2009 perché la stampa ne parla per la prima volta proprio nel 2009 e tutto più o meno procede fino a quando entrando negli ospedali civili di Brescia grazie a una serie di appoggi politici che chiamano in causa la regione Lombardia che chiamano in causa anche alcuni parenti dei dirigenti sanitari degli ospedali civili insomma in una situazione in cui due assoluti incompetenti vengono presi in considerazione da uno degli ospedali tra l'altro più importanti d'Italia dove loro vanno a fare questi trattamenti lavorava uno dei più importanti pediatri immunologi italiani che adesso lavora d'Arval che ha notarangelo insomma l'ha fondato lui quel reparto infatti è incredibile come questa cosa sia potuta accadere però è accaduta e niente è accaduta e a un certo punto quando AIFA fa l'ordinanza che blocca tutto si pensava che nulla sarebbe più andato avanti si pensava che a quel punto Guarignello il procuratore Guarignello fossero lì per diciamo per formalizzare le accuse che poi sono state formalizzate qualche mese fa con con l'accusa di numerosi capi di imputazione a una ventina di persone tra cui anche esponenti del anche persone che lavorano nel medici e sanitari che lavorano agli ospedali civili di Brescia ovviamente Andolina e Vannoni e a quel punto però le cose cominciano a precipitare nell'agosto del 2012 quindi circa due anni fa quando alla fine d'agosto dopo che si era tentato di far dichiarare illegittima l'ordinanza AIFA ma l'altar di Brescia non lo fa c'è ricorso da parte del genitore di una bambina che si chiamava Celeste presso un magistrato del lavoro di Venezia e si ottiene che questo magistrato del lavoro disapplichi l'ordinanza stamina e obblighi gli ospedali civili a fare queste infusioni e lì comincia tutta una serie di discussioni a quel punto entra in gioco il ministro della salute a quel punto i genitori che volevano anche loro le infusioni cominciano a organizzarsi attraverso social network fanno associazioni movimento vite sospese poi cominciano ad entrare in gioco anche alcuni interessi politici come nel caso di Bella insomma dove si era tentato di politicizzarlo anche qui si cerca di politicizzare la cosa tutti hanno paura di dire che è una buffala che è un imbroglio che è un inganno che è un'illusione perché comunque davanti ai genitori che sono disperati per questi bambini bisogna insomma sempre sembra sempre insomma che bisogna essere ipocriti e non dire come stanno le cose anche a costo insomma di ingannarli e di illuderli e soprattutto di ingannare e danneggiare gravemente l'immagine della medicina e della sanità nazionale e a quel punto il ministro della salute manda un'ispezione ci sono 350 pagine di questa ispezione con delle foto che sono raccapriccianti dove voi vedete li preparati per la trasfusione in mezzo alle cacche di ratto insomma senza etichetta insomma delle cose incredibili quindi 350 pagine con il ministro della salute che nonostante vi fosse già l'ordinanza dell'AIFA rifà un'indagine perché non ci crede vuole andare a vedere questi preparati sono esaminati da due biologi tra cui un biologo di Modena specializzato in mesenchimali i quali dicono che lì dentro non c'è niente eppure il ministro della salute Balduzzi comincia a ricevere i genitori soprattutto dopo che cade nella trappola di una lettera scritta da Adriano Celentano ovviamente sul Corriere della Sera che appena parla Adriano Celentano o qualche altro come dire personaggio incompetente su certe materie gli si crede più se non che non se parli qualcuno specializzato operazione in parte montata dalle Iene insomma da questo programma di disinformazione e di secondo me di malevolenza e malvagità insomma nei riguardi delle persone sofferenti perché ci veramente spingere le persone a credere che esiste che queste siano una cura bisogna essere davvero un po' cattivi insomma un po' volti a usare le sofferenze per arricchirsi e per far soldi e dopo questa vicenda Balduzzi pensa di poter cominciare a come dire a consentire ad aprire questo tipo di trattamento ma il tutto diciamo viene viene messo in un calderone politico che consente a Vannoni di andare avanti per mesi e mesi a obbligare il Parlamento in sostanza a votare una legge che stanzia 3 milioni di euro per sperimentare una cosa dove non c'è niente da sperimentare perché lì dentro non c'è assolutamente niente ad avere una commissione scientifica che noi abbiamo pagato e che dopo aver esaminato i rapporti di Vanoni e che è quello che Vanoni presenta come protocolli da sperimentare dice qui non c'è niente non possiamo buttare questi 3 milioni di euro eppure anche lì ancora una volta non si decide nulla c'è un tar del Lazio che dice che la commissione che ha detto che il metodo Vanoni non esiste in realtà non erano obiettivi perché siano già pronunciati precedentemente contro Vanoni e quindi anche se sono degli scienziati non era obiettivo come se uno scienziato avesse detto che 3 più 2 fa 5 prima di entrare in una commissione non potesse starci più perché l'aveva già detto prima e dopo essere entrato nella commissione evidentemente il fatto che 3 più 2 faccia 5 è un'opinione sua e non un fatto scientifico matematico in questo caso insomma è un stato un delirio francamente un delirio che sta continuando in questi giorni perché poi il massimo della follia e poi uno dice che vorrebbe questo paese guiderà l'Europa la ripresa dell'Europa ma stiamo scherzando il massimo della follia è che un giudice di Pesaro nomina uno che è accusato di un 7-8 reati e che ha trasgredito una decina di articoli del codice di deontologia medica che Andolina e che tra l'altro è vicepresidente della Stamina Foundation lo nomina commissario ad acta degli ospedali civili per consentire che si infondano le infusioni che prepara lui a un bambino così perché lo dice un magistrato il quale il magistrato ritiene che questo gli sia dovuto da un punto di vista del diritto poi ce lo spiegherà eventualmente il giudice Zagwebeschi ma quindi che questo gli sia dovuto da un punto di vista del diritto che ci sia una continuità terapeutica che sono tutta una serie di argomenti e questo vuol dire sostanzialmente che in Italia un po' è un impazzimento la magistratura che considerate che sono state presentate oltre 500 richieste di essere da parte di famiglie di essere che i bambini che alcuni bambini siano sottoposti a questi trattamenti 180 hanno risposto di no e le altri giudici hanno risposto di sì quindi sostanzialmente per avere una prescrizione da parte di un giudice di un trattamento medico basta scegliersi il giudice che è favorevole a questo trattamento e sapere che certi giudici non sono favorevoli ci sono dei giudici però che hanno fatto delle ordinanze che sono dei capolavori un giudice di Torino di cui non mi ricordo come si chiama ha fatto un'ordinanza di una settantina di pagine in cui ricostruisce la figura come dire storico-psicologica del charlatano che io uso e consiglio ai miei studenti perché è uno che ha studiato molto attentamente il fenomeno e ovviamente respinge la richiesta dei genitori insomma il caso Stamina credo che sia veramente una manifestazione di inciviltà e anche incapacità in questo paese di gestire fenomeni che poi sostanzialmente sono fenomeni anche abbastanza semplici abbastanza banali Zagrebersky Corbellini è stato molto polemico con il comportamento dei giudici lei ha già scritto anche sui giornali che complessivamente il comportamento delle istituzioni è stato confuso contraddittorio in questa vicenda così complicata io vorrei che rispondesse a quello ma da giurista le farei anche un'altra domanda ma un malato terminale che non ha speranze ha il diritto di chiedere di essere curato anche con una cosa che apparentemente non è provata che possa dare nulla insomma anche con una cura così discussa come Stamina ma no nel senso che da un lato ciascuno di noi può curarsi come vuole a casa sua può prendere qualunque cosa l'olio di serpente come il professor Corbellini ha scritto su questo tema altro è pretendere che invece sia il servizio sanitario nazionale con l'impegno economico per un verso ma soprattutto l'impegno di serietà di responsabilità che che implica il fatto di essere in una struttura pubblica quindi no questo però però il concetto che è stato maneggiato bene o male è stato maneggiato in questa vicenda di cure compassionevoli è una nozione che sta a cavallo che sta un po' oltre quello che è comprovato serio e sperimentato come terapia valida da somministrare in una struttura pubblica perché nelle situazioni estreme come sono state certamente almeno la maggior parte di quella per cui ci sono stati questi ricorsi non c'è una terapia convalidata e utile e si pretendeva nelle richieste al giudice si pretendeva che questa fosse nella descrizione di quel decreto ministeriale del 2006 che disciplina questa materia e cioè che fosse sufficientemente seria ecco diciamo così ora cosa è successo innanzitutto in questa storia come in tutte quelle che sono sulle prime sulle seconde terze pagine dei giornali italiani c'è sempre un giudice o un pubblico ministero nel bene e nel male ora in materia di diritto alla salute perché questo si faceva valere davanti ai giudici non c'è altra soluzione al mondo che rivolgersi al giudice perché si fa valere un diritto tra l'altro nella costituzione l'unico diritto che è qualificato come diritto fondamentale è il diritto alla salute l'articolo 32 della nostra costituzione poi ci sono un sacco di convenzioni internazionali e altre cose ma rimanendo tra di noi la costituzione dice diritto assoluto direttamente azionabile davanti al giudice dice la corte costituzionale ora cosa è successo qual è lo strumento che è stato attivato probabilmente in ipotesi che faccio in modo organizzato perché tanti ricorsi così sarebbe anche interessante vederli questi ricorsi vedere se sono un po' a ciclostile ecco ora non è proprio che si sceglie il giudice che fa comodo se fosse così avrebbero avuto 500 ordinanze dello stesso colore no dello stesso tenore invece no ci sono dei criteri di competenza competenza territoriale a seconda del luogo in cui il paziente si trovava e infatti ci sono ordinanze di tutta Italia praticamente ora e che cosa si è chiesto come hanno agito in quel momento i giudici avevano una storia che era andata avanti da diverso tempo in una struttura pubblica prestigiosa affidabile come sono gli ospedali che hanno praticato con un parere favorevole del comitato etico dell'ospedale con dei medici che praticavano quella terapia quella terapia somministravano quel prodotto prodotto tra l'altro questo è l'aspetto per me più impressionante sconosciuto nel senso che la composizione le procedure di produzione sono le conoscono loro ecco ma non loro voglio dire i responsabili di questa vicenda e non viene così che la struttura pubblica con partecipazione di medici e comitato etico eccetera somministrava qualche cosa di cui non conosceva le caratteristiche questo è prima della magistratura questo è avvenuto presso l'ospedale di Brescia a quel punto il ricorso è stato fatto con la procedura d'urgenza il processo nostro italiano è caratterizzato dall'estrema pesantezza della procedura centomila possibilità per le parti di intervenire replicare infatti infatti dura 12 anni chiudendo la parentesi ovviamente però c'è come c'è dappertutto il provvedimento d'urgenza poi la causa durerà 12 anni ma c'è il provvedimento d'urgenza è nato nel diritto romano quando gli esempi classici sono il muro del vicino che sta cadendo prima di destabilire se quel muro è mio o del vicino chi deve ripararlo però c'è il provvedimento del giudice che dice puntellatelo poi vediamo nasce così ora qui c'era un'urgenza credo palese per la situazione medica in cui si trovavano questi questi bambini spesso o questi pazienti in ogni caso come avviene la procedura la procedura avviene e il giudice sente le parti e le parti chi sono volta per volta il malato o chi per lui che chiede di continuare una terapia che un ospedale pubblico ha somministrato controparte erano gli spedali di Brescia i quali sarebbe interessante vedere come si sono difesi o se per caso non hanno avuto tanta spinta a difendersi per dire no non fate quel provvedimento perché tutto sommato l'avevano fatto per mesi e se c'è poi il retroterra così più che dubbioso insomma che ha spinto l'ospedale a quella pratica si può anche immaginare che tipo di informazione ciascun giudice ha ricevuto dico ciascun giudice perché ciascun giudice ha deciso una causa specifica la situazione medica di quel specifico malato con gli argomenti che le parti gli portavano io credo tra l'altro appunto il provvedimento d'urgenza sono i più difficili da prendere perché si sa che si ha poco in mano perché poi dopo questo è l'atteggiamento del giudice tanto dopo c'è la causa la causa vera allora si faranno le perizie si farà tutta l'indagine che è necessaria e si sarà la sentenza ma nel frattempo c'è il provvedimento d'urgenza il provvedimento d'urgenza è l'unico serio poi però perché è quello esecutivo subito esecutivo è un momento difficile del mestiere di giudice quello del provvedimento d'urgenza ora in quei provvedimenti io ne ho visto alcuni è interessante perché voglio dire sarebbe facile tutto sommato discutere questa vicenda se fossero provvedimenti tirati giù poche righe per togliersi il fascicolo dal tavolo sono ordinanze lungamente motivate e lungamente argomentate in modo opinabile certamente ma meditato ora il punto era da un lato quello che era avvenuto fino ad allora interrotto da quel provvedimento dell'AIFA di cui si è parlato il quale provvedimento che cosa era avvenuto che una struttura pubblica appunto aveva praticato quella terapia la continuità terapeutica è un argomento e c'erano nella a corredo del ricorso c'era uno o più certificazioni di un medico che diceva di aver avuto aver visto miglioramenti poi sembra che questi no 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 non solo tant'è vero che nell'indagine nell'indagine della procura di Torino questi medici che avevano redatto i certificati sono stati sentiti e non so se tutti ma a buona parte hanno detto sì vabbè ne sapevo poco però me l'hanno chiesto e lo so però il medico ha prodotto quel certificato che è stato messo davanti al giudice il quale aveva un ospedale pubblico che l'aveva fatto fino a poco prima un medico che mi dice questa roba qui che non sappiamo cos'è però gli ha fatto bene provvedimento d'urgenza difficile tant'è vero che tant'è vero che c'è discordanza tra giudici ora quello della discordanza tra i giudici è un tema generalissimo che va molto oltre la questione specifica anche se la questione specifica è particolarmente diciamo inquietante per la materia di cui stiamo parlando però ogni giudice decide la causa specifica e allora non c'è una rete se non la cassazione alla fine questo è un difetto o una caratteristica secondo come lo si vede della giustizia le decisioni sono specifiche e sono contraddittorie perché conta molto la personalità del giudice la sua cultura le carte che ha avuto ogni ricorso avrà avuto o no un certificato di un medico questo dico perché l'aspetto più inquietante secondo me di questa vicenda è che è difficile trovare il colpevole l'ignorante il corrotto identificato e punito il quale il sistema funziona è il sistema che non ha funzionato io credo che ora perché il punto più evidente di problematico è perché i giudici buona parte dei giudici hanno disapplicato quel provvedimento dell'AIFA che è l'agenzia del farmaco che diceva stop da questo momento in poi stop ora tecnicamente è possibile farlo i giudici non sono tenuti a osservare i provvedimenti amministrativi i giudici sono lì per controllare che i provvedimenti amministrativi siano adeguatamente motivati eccetera eccetera ora c'era un rapporto del nucleo antisofisticazione dei carabinieri che dava atto di certi difetti carenze dei laboratori a fronte di questo c'era l'ospedale pubblico vorrei vedere che cosa hanno detto i rappresentanti dell'ospedale pubblico su questo punto ai giudici che difendevano la qualità del loro servizio se aggiungiamo a tutto questo questa vicenda che non so come finirà per la verità perché anche l'ordinanza di Pesaro dell'altro ieri è perfettamente in linea con la legge perché il provvedimento c'era era esecutiva e l'ospedale di Brescia non lo eseguiva e dunque il giudice sarebbe molto grave se si ammettesse che i provvedimenti del giudice non vengono eseguiti perché dispiacciono per cui si sono trovati a dover imporre che la conseguenza sia impressionante impressionante uso la parola una parola non tecnica non giuridica sia impressionante cioè che sia l'interessato diretto che va e fa quella somministrazione resta il fatto che il provvedimento doveva essere eseguito credo di aver dato forse qualche spiegazione senza pretesa che siano soddisfacenti anzi a riprova del fatto che è il sistema nel suo complesso che non ha funzionato è stato detto i giudici sono sostituiti ai medici non è così i giudici hanno seguito l'indicazione dei medici che erano stati portati come certificatori nelle cause quindi c'è anche un problema di medicina nel senso che oscillazioni di valutazioni che il giudice non può a priori diciamo scegliere questo medico sì e quell'altro no quello che è venuto fuori è che un problema unico è stato gestito come se si trattasse di cause ordinarie e allora giustamente ciascun incidente stradale è giudicato dal giudice del luogo in cui è avvenuto l'incidente qui c'era un unico problema grosso e serio se questo prodotto fosse o no un farmaco utile o ipoteticamente utile perché quando si dice terapie compassionevoli sono compassionevoli infatti si sta al limite e forse anche oltre il limite delle regole ordinarie ma sempre devono essere delle terapie e questo era da decidere una volta per tutto in modo affidabile e in modo da imporlo io credo che in questa materia se poi qualcuno ci pensa a questa vicenda per uscirne e allora bisogna scrivere chiaramente che i provvedimenti dell'AIFA non sono più impugnabili e i giudici devono semplicemente accettarli ma questo non è ancora scritto i provvedimenti dell'AIFA sono i provvedimenti amministrativi come tutti gli altri come un ordine del sindaco di Cagliari che dice questa strada si chiude deve essere legittimo deve essere motivato se no il giudice deve non voglio citare leggi perché se no diventa tecnico ma è una legge del 1865 del regno sardo piemontese che è ancora in vigore e sta in tutti gli stati di diritto che i giudici valutano i provvedimenti dell'amministrazione purtroppo spesso credo almeno in questa causa in questa vicenda l'hanno valutato male corbellini replicherà dopo perché su molti punti credo che abbia da dire però adesso a Gianvito Martino volevo chiedere questo è difficile il lavoro del giudice è difficile il lavoro del medico come medico e come ricercatore qual è la realtà oggi delle staminali e quali sono gli scenari reali e non immaginari diceva prima Corbellini ormai le staminali sono entrate talmente nell'essico comune che soltanto a dire la parola uno si sente già meglio qual è la realtà ma guarda Cesare la risposta è molto semplice ci sono solo due terapie approvate nel mondo che possono utilizzare cellule staminali una è una terapia che conosciamo tutti cioè il trapianto di midollo osseo che ha compiuto il milionesimo trapianto nel mondo è stato fatto nel dicembre del 2012 e che cura i tumori del sangue sostanzialmente e che è un trapianto di cellule staminali del sangue si chiamava trapianto di midollo osseo fino a alcuni anni fa adesso è diventato trapianto di cellule staminali amatopoietiche proprio per la ragione che dicevi tu e l'altro è il trapianto di cellule staminali della pelle che servono sia per le grandi ustionati sia per lesioni della cornea cioè lo strato superficiale dell'occhio che ogni tanto per agenti chimici o per ustioni si può danneggiare siccome sono cellule anche quelle della pelle si possono fare questi trapianti tra l'altro l'Italia in particolare Michele De Luca e Paolo Rama sono nel mondo quelli che fanno le cose in questo settore più avanzate però queste due storie non c'è altro non c'è null'altro non ci sono altre terapie a base di staminali per qualsivoglia altra malattia certamente ce ne sono tante in sperimentazione ma in sperimentazione vuol dire che ovviamente se si sperimentano non si sa se sono efficaci o non sono efficaci si sperimentano appunto per capirlo ma queste due storie sono interessanti perché nel primo caso del trapianto in midollo osseo un gigante come Donald Thomas che prese un premio Nobel per questa per questa terapia iniziò a fare i trapianti alla metà degli anni 50 e all'inizio effettivamente erano trapianti sperimentali c'erano molti pazienti che morivano e alcuni sopravvivevano alcuni effettivamente stavano molto meglio ma non si capiva perché sono passati gli anni poi a un certo punto all'inizio degli anni 60 dei ricercatori che facevano tutt'altro hanno scoperto i geni della cosiddetta istocompatibilità sapete quando si fa un trapianto d'organo il donatore ricevente devono essere compatibili si dice cioè devono avere dei tessuti simili che quindi in qualche modo riescono a stare insieme tra di loro per intendersi quando fu fatta questa scoperta da lì il trapianto iniziò a essere realmente efficace e iniziò a diventare una terapia ma il percorso durò più di 40 50 anni la stessa cosa vale per il trapianto di pelle un altro gigante della scienza Howard Green all'inizio degli anni 70 iniziò a capire che queste cellule della pelle si potevano coltivare queste staminali espandere in grossi lembi anche di parecchi metri per ricoprire gli ustionati e dopo tanti anni si scoprirono alcune tecniche proprio per poter crescere queste cellule per creare questi lembi di pelle e solo quel passaggio diciamo tecnologico permise alla terapia di poter essere sperimentata e di dimostrare che era efficace e quindi uno si dice beh ma i tempi della scienza sono lunghi io non ho tempo di aspettare questo è quello che dicono i pazienti in particolare i pazienti neurologici di cui ci occupiamo noi che sono i pazienti in generale per cui si hanno meno cure e quindi che gusto c'è cioè questi ricercatori questi scienziati sono sostanzialmente non so tengono le cose nascoste nel cassetto non ci danno queste terapie probabilmente sono tutti prezzolati dalle lobby farmaceutiche insomma tutti questi discorsi beh la realtà è un pochino diversa anzi la sperimentazione è una conquista straordinaria della nostra società e perché è questo perché come diceva giustamente il giudice Zagrebelsky prima si sta parlando di farmaci e i farmaci non sono sempre efficaci anzi se prendiamo i dati della Food and Drug Administration a cui Gilberto faceva riferimento e li ho segnati perché non vorrei sbagliarmi nel 2011 sono negli Stati Uniti ci sono stati 128.000 morti per effetti collaterali da farmaci cioè è la quarta causa di morte ed ha numeri che sono simili alle morti causate dagli ictus cerebrali quindi questo vuol dire che in principio un farmaco che tra l'altro deriva dal latino la parola veleno non è sicuramente un farmaco efficace non è solo perché noi lo definiamo tale che è efficace dobbiamo valutare i rischi benefici e quando i rischi sono superiori ai benefici non possiamo utilizzarli o quando li utilizziamo dobbiamo utilizzarli in certe condizioni proprio perché sappiamo questo è nata fin dal mille da vicenne in poi è nata la sperimentazione clinica che poi ovviamente si è arricchita del metodo scientifico e che prevede una serie di tappe fondamentali prima si prova sugli animali dal laboratorio se è in qualche modo efficace si testa su volontari sani si valuta la sicurezza poi si trattano dei gruppi di malati diciamo molto 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 piccoli per capire se sulla malattia una volta che si è dimostrato non tossico diciamo nel soggetto sano se anche sulla malattia è efficace dopodiché si prova su larga scala su grandi numeri poi il farmaco può venire approvato ma anche dopo la sua approvazione si fanno dei test cosiddetti post marketing e tante volte lo sapete tutti voi i farmaci vengono ritirati dal mercato anche dopo che vengono immessi in commercio quindi questo percorso che si è calcolato dura circa 15 anni costa circa per ogni singolo farmaco un miliardo di dollari si parte da circa 10.000 potenziali terapie in 20 anni si arriva forse ad averne una che è efficace è un percorso necessario è un percorso lungo ma necessario e perché si fa questo percorso lo si fa per tutelare il paziente che è l'anello debole della catena non lo si fa per arricchire lo scienziato di turno questo è il punto essenziale quindi la precauzione che il metodo scientifico ha in sé è fondamentale per cercare di garantire la salute è paradossale perché si dice che si deve applicare il principio di precauzione alla scienza quando si parla scusa l'inciso di etica della scienza cioè se insomma quando si parla della bomba atomica che è legata alle scoperte che faceva Einstein allora dobbiamo applicare questo principio di precauzione quindi prevedere i possibili rischi e quindi eventualmente fermarci prima e questo è quello per cui gli scienziati vengono accusati di non rispettare ma in questo caso il principio di precauzione è inesistente allora non riesco a capire poi l'opinione pubblica realmente cosa voglia io posso dirvi una cosa posso dirvi nella nostra esperienza a San Raffaele tra pianti e cellule staminali sperimentali ne facciamo ne facciamo anche parecchi siamo posso dirlo anche nel mondo tra i centri più avanzati però certamente questo tipo questa leggerezza con cui si è affrontato questo problema ovviamente a me spaventa particolarmente perché se non c'è questo principio diciamo così se non c'è questo metodo scientifico che negli anni voi dite sì ma insomma qual è il dato che fa o ci fa capire che questo sistema che la scienza si è inventata negli anni funziona beh il dato è molto semplice all'inizio del novecento l'età media era di 40 anni adesso siamo arrivati a 82 anni applicando questo sistema abbiamo migliorato la qualità di vita questo è evidente quindi c'è la prova provata che questo sistema è efficace è lento non posso aspettare beh ma questo non è un ragionamento un ragionamento che può fare l'individuo il singolo individuo perché è una responsabilità sua individuale ma certamente questo non lo può fare diciamo così lo Stato non lo può fare la comunità scientifica che deve appunto applicare dei principi di precauzione che siano principi di precauzione solidi e in questo senso racconto l'ultima storia e poi chiudo che è quella invece del morbo di Parkinson perché anche qua insomma il primo trapianto di cervello diciamo così è stato fatto nel 1890 da un signore che si chiama Gilman Thompson che l'ha fatto negli Stati Uniti l'ha fatto ovviamente non in uomini e non in umani ma in cani e gatti dopodiché diciamo così per una ottantina di anni queste sperimentazioni sono andate avanti si è capito che era potenzialmente fattibile un trapianto di quel genere piccole porzioni di cervello per curare alcune malattie e nel 1986 l'Accademia Svedese di Medicina quindi non i giudici non l'AIFA non l'Accademia Svedese di Medicina l'Accademia che dai Nobel che è l'organismo supremo autorizza anzi da un parere favorevole al comitato etico per poter provare a iniziare a sperimentare questi trapianti nell'uomo nel 1991 sei pazienti col morbo di Parkinson vengono trapiantati con dei piccoli pezzettini di cervello prelevati da feti e da aborti fetali e ad oggi abbiamo più di 200 pazienti nel mondo trapiantati col Parkinson e la maggior parte di questi pazienti sta meglio cioè i sintomi sono migliorati ma perché questa non è ancora una terapia uno si chiede ma perché io non posso andare nell'ospedale vicino a casa e poterla fare beh perché quei trapianti certamente hanno migliorato la salute di alcuni pazienti ma nello stesso tempo si è visto che per esempio i pazienti con meno di 40 anni e con più di 40 anni scusate con una malattia particolarmente avanzata per esempio non erano non rispondevano al trattamento e quindi si è iniziato a capire che in quei pazienti non solo non rispondevano al trattamento ma c'era un rischio cioè i movimenti anomali del Parkinson in questi pazienti con questo trapianto peggioravano addirittura la malattia di base e quindi ci si è fermati e si è rivalutato qual è il rischio qual è il beneficio si è fatto sì che questa terapia in qualche modo rimanesse ancora nell'alveo sperimentale e in qualche modo si sta continuando ovviamente a capire come evitare quella percentuale di rischio faccio un esempio l'ultimo scusami sulla sclerosi multipla perché so che è una malattia che colpisce in particolare questa regione ed è la malattia di cui tra l'altro io mi occupo da circa 30 anni nel 1994 il trapianto di midollo osso è stato proposto come terapia adesso non vi dico qual è il razionale ma insomma è stato proposto con un razionale scientifico abbiamo fatto oramai più di 600 pazienti ne abbiamo trapiantati più di 600 anche in Sardegna qualche paziente è stato trapiantato molti a Genova tanti a Milano da noi e così via e abbiamo visto che in alcune circostanze il trapianto in sé aveva una mortalità cioè nell'1-1,5% dei casi la procedura di per sé uccide il paziente allora ci si è detti sì ma su una malattia come la sclerosi multipla che è molto grave ma è una malattia non è una malattia mortale siamo autorizzati a far correre il paziente un rischio di questo tipo beh a un certo punto la comunità scientifica anche lì ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti sì possiamo farlo correre solo a un sottotipo di persone di malattie che hanno una forma particolarmente grave di malattia e che hanno fallito tutti gli altri trattamenti terapeutici disponibili eppure in questo caso tuttora questa terapia rimane sperimentale sperimentale vuol dire che bisogna avere una serie di autorizzazioni quindi onestamente concludo dicendo questo dicendo che certamente i tempi della scienza sono lunghi ma sono lunghi perché le regole della scienza sono complesse la materia è complessa ma sono lunghi soprattutto perché sono finalizzati a far sì che le persone che sono i pazienti che sono appunto l'anello più debole la parte che soffre veramente in queste circostanze deve essere tutelata perché sapete i forti si tutelano da solo sono i deboli che hanno bisogno di essere aiutati per essere tutelati grazie breve secondo giro poi c'è spazio per qualche domanda per chi volesse Corbellini Zagrebelsky ha risposto ai suoi accenni polemici nei confronti degli interventi dei giudici Martino ci ha raccontato che cosa significa costruire un nuovo farmaco che cosa significa affrontare malattie complesse come questo io le chiedo rispetto alla questione stamina è chiaro che c'è stato un deficit istituzionale globale ecco per darci un po' una prospettiva che cosa bisognerebbe cambiare perché non si verifichi più su situazioni come stamina e per aiutare da un lato i giudici a non prendere decisioni contraddittorie e dall'altro la scienza e la medicina ad andare avanti secondo me è molto semplice fare quello che più o meno hanno fatto negli Stati Uniti per cui un giudice non può chiamare chi vuole a fare una perizia scientifico tecnica perché non può essere un giudice decidere quale medico va bene quale medico non va bene o quale scienziato dice che la cosa corretta e quale no o se è equivalente chiamare uno psicanalista o uno psichiatra per fare una perizia sull'incapacità di intendere di volere questo non è più possibile oggi questa storia è finita poteva essere possibile prima del novecento i criteri Dovert che valgono agli Stati Uniti devono secondo me essere fatti anche in Italia con una legge e si dice che i giudici quando devono valutare una questione tecnica non è che si chiede che ne so al muratore con tutti che poi se ne sa anche più dell'ingegnere se è il caso di fare o meno un certo intervento strutturale su un edificio quando il magistrato decide di disapplicare una ordinanza del sindaco e perché invece nel caso di stamina lo si chiede a uno che non ha la minima competenza ha solo una laurea in medicina ma non sa assolutamente niente delle cose di cui sta parlando questo è il problema quindi questa è dove è fallito il sistema non secondo me tanto in generale il sistema è fallito perché purtroppo in questo paese per ragioni che non voglio aprire una parentesi politica ma per ragioni che sappiamo bene che sono iniziati i contingentopoli le vediamo ancora oggi si ritiene che i problemi possono essere risolti per via giudiziaria ma il diritto è una componente fondamentale di uno stato ma non diciamo lo stato di diritto si basa su equilibrio tra poteri e se uno di questi praticamente diventa soverchiante rispetto a tutti gli altri come nel caso stamina per esempio è avvenuto abbiamo episodi come quello che abbiamo descritto quindi secondo me io non metto minimamente in discussione il fatto che diciamo da un punto di vista formale le decisioni di questi giudici siano eccepibili ma io domando un giudice insomma se lui riterrebbe come dire comprensibile il fatto che un biologo che ne so pretenda di di scrivere delle sentenze o di proporsi come qualcuno diciamo che dà giudizio nel merito anche tecnicamente nel merito di una sentenza o di una legge e qui stiamo arrivando a questo tipo di fenomeno quindi secondo me è molto e questo dovrebbe valere per tante altre cose perché questo è successo con la legge in questo paese è impazzito da circa 25-30 anni cioè il caso di Bella è stato il primo episodio cioè non dimentichiamoci la figura che abbiamo fatto nel caso di Bella siamo stati esposti all'agonia internazionale abbiamo pagato con i nostri soldi una sperimentazione che in nessun paese si sarebbe fatta e in più quando l'abbiamo pubblicata il British Medical Journal ci ha detto ma almeno che la facevate fatela bene perché questa fa schifo cioè ma legge 40 cioè legge 40 abbiamo fatto la peggiore legge sulla fecondazione sulla medicina riproduttiva che avessimo corretta dai giudici eh sì ok corretta dai giudici ma anche in questo caso perché comunque nel momento in cui si è andati no no ma questo per carità infatti no no il problema è che si è fatta una legge incostituzionale viene corretta ma il problema è che si è fatta una legge incostituzionale nel momento in cui si è introdotto in una legge e questo è incredibile dopo aver fatto audizioni a destra e a manca si sono introdotti in una legge degli articoli che erano contro l'articolo 32 della Costituzione cioè si è fatta una legge che andava contro le buone linee guida e che ne so la commissione grande rischi che viene condannata perché non ha dato l'allarme perché attenzione cioè su questo potremmo oprire una discussione ma io l'ho letta quella sentenza cioè non è che dice che non ha precisato il primo modo ma che doveva dare non era mica un compito della commissione grandi rischi e non aveva alcun tipo di possibilità di intervenire su un problema come questo quindi in questo paese lascia gli OGM ma pensiamo a tutta la faccenda degli OGM in Italia cioè questo paese è impazzito cioè c'è una tecnologia che potrebbe nel giro di pochi anni far ripartire l'agricoltura senza penalizzare minimamente il tipico il biologico chiamatelo come volete eppure noi invece la proibiamo per motivi ideologici abbiamo dei giudici che fanno anche su questo delle sentenze che sono più ideologiche che non di merito perché esiste un articolo della Costituzione l'ho letto anch'io e finisco che dice che se non ci sono prove che un certo attività economica fa danni non la si può vietare non ci sono prove che coltivare per esempio organismi eccedivamente diversificati faccia danni alla salute e all'ambiente eppure si fa il divieto e lo si fa e lo si applica e lo si reitera costantemente quindi secondo me su questo punto bisogna intervenire io mi trovo per la composizione di questo panel mi trovo nella condizione di dover spiegare naturalmente argomenti miei come possano succedere certe cose da parte per provvedimenti del giudice e in una certa misura come non possano non succedere insomma come sia nel sistema poi quando il panel è diverso o semplicemente sono a casa mia o parlo con un amico magari siamo poi più d'accordo ecco ma credo che però comunque sia un ruolo utile quello dello spiegar come avvengono le cose prima di di indignarsi o di provvedere suggerire soluzioni ecco perché come dicevo prima se avessimo trovato una serie di 500 giudici ignoranti o superficiali tutto sommato la soluzione l'avremo facilmente invece no invece non è non è così o non è sempre così e quindi il problema è più è più complicato a proposito dei consulenti del giudice il giudice in una serie vastissima di di cause non solo quelle che mettono in campo scelte di di natura tecnico scientifica medica ma l'incidente stradale per sapere a che velocità andava il conducente che ha investito qualcuno e che dice io andavo a 49 chilometri all'ora c'è poi qualcuno che misura le tracce di frenata e dice andava a 51 all'ora il consulente dell'imputato con altrettanti calcoli e bella scrittura in carta patinata dimostrerà che sono 49 per cui anche la scelta la scienza purtroppo dà spesso risultati opinabili e non è detto che la scelta tra una soluzione e l'altra sia seriamente affidabile al prestigio alla nomea al titolo accademico del consulente detto questo è uno dei problemi quello della scelta del consulente è uno dei problemi più gravi per la magistratura sentito come tale naturalmente ora ci sono dei problemi infiniti i consulenti del giudice sono pagati molto poco molto di più sono pagati i consulenti delle parti private che non hanno tariffe è un problema è uno dei tanti problemi della giustizia non solo le persone salvo i casi straordinari ma nella norma i professionisti anche più qualificati non amano fare la consulenza per il giudice e non solo perché è pagata poco ma perché è difficile è noiosa è burocratica bisogna poi depositarla poi bisogna andare in tribunale a essere interrogati dagli avvocati delle parti che tenderanno a dimostrare che ha detto una fesseria che 2 più 2 non fa proprio 4 ma 4 e mezzo insomma quante volte quante volte personaggi affidabilissimi nella loro disciplina hanno declinato la nomina aducendo delle ragioni magari un po' inventate ma quando qualcuno non vuol fare una consulenza benché sia obbligato è difficile obbligarlo perché si sa che poi durerà due anni e poi no voglio dire la scelta è difficile però è un problema gravissimo il problema gravissimo bisognerebbe avere ci sono degli albi dei consulenti ma sono albi in cui il consulente si iscrive semplicemente ecco allora bisognerebbe avere un collegio per ciascuna delle discipline un collegio affidabile che certifica che Tizio Cades Impronio sono consulenti affidabili e poi questi devono essere disponibili per il giudice di Pesaro nell'urgenza provvedimenti urgenti il giorno dopo andare a fare la consulenza il che non è facile però è uno dei problemi di discussi voglio dire è ovvio che sia così non so come sia altrove fuori d'Italia ma in Italia certamente è un problema che è aperto e diventa sempre più grave perché sempre più frequenti sono le cause estremamente sofisticate dal punto di vista tecnico insomma detto questo nel caso specifico non sono stati nominati i consulenti perché il provvedimento d'urgenza è stato fatto sulle argomentazioni delle parti il processo è fatto così e vive del contraddittorio tra le parti non quello che è stato scritto altrove sulle riviste scientifiche o sulla stampa o qualcosa quello che le parti dicono al giudice ora qui noi avevamo sempre parti una persona o i genitori della persona malata che chiedeva di e un ospedale che l'aveva fatto fino al giorno prima e questo che che spiega secondo me fino a un certo punto dirò perché fino a un certo punto spiega perché poi si è avuta la gran maggioranza di ordinanze che ordinavano di continuare la terapia fino a un certo punto perché effettivamente altri giudici hanno detto di no quindi argomenti ne hanno avuti che la normativa su questa materia sia complicata e ancora incompleta rispetto alle direttive comunitarie è un altro dato di fatto ora per questo arriviamo poi sempre alla fine alle scelte semplici chiare e diciamo un pochino irreversibile non che ogni mese cambia del ministeriale nella specie e in generale del legislatore la storia di quel decreto legge Balduzzi con la presidente adesso la presidente della commissione sanità del senato che dice sì effettivamente abbiamo deliberato senza conoscere la materia e insomma poi i giudici hanno quei prodotti normativi da applicare voglio dire ce n'è per tutti ecco io dobbiamo chiedere se c'è qualcuno se c'è qualche domanda e poi lascerei la parola a Gianvito Martino per una conclusione volevo sapere da Zagrebreschi sarebbe possibile da un punto di vista giuridico che un giudice quindi valuta le carte chi è in mano quindi emette la sentenza in base alle carte chi è in mano ma in queste carte c'è anche il fatto che lui ha autorizzato il trattamento l'ultimo trattamento che è stato fatto a una persona inquisita quindi da un punto di vista giuridico il giudice non deve tener conto che la persona che lui ha autorizzato a somministrare questo metodo qua è una persona che è stata inquisita per truffa per falsificazione per insomma per per aver creato un sistema non valido cioè non diciamo dimostrato scientificamente ecco il giudice nel momento in cui autorizza questa questa persona come dire in cui c'è un procedimento in corso non deve come mi sembra un'assurdità giuridica c'è già questo passaggio ma lei mi chiede un'opinione di buonsenso o di giurista e no perché mentre l'opinione del buonsenso sarebbe facile no infatti prima dicevo impressionante ho usato una parola del linguaggio comune non tecnico dal punto di vista giuridico questo signore è ancora oggetto di un'indagine non c'è nemmeno un rinvio giudizio ancora di presunzione di innocenza questo paese ha vissuto a tutti i massimi livelli no presunzione di innocenza significa che non solo si può fare di tutto ma sono anche frequentabili anche frequentabili perché sono presunti innocenti ora dal punto di vista tecnico il signor Andolina è il signor Andolina medico dal punto di vista tecnico il buonsenso secondo me dovrebbe essere la super norma sopra ancora la costituzione ecco e qui forse siamo andati un po' oltre Martino vuoi concludere? grazie ma Cesare io direi una cosa adesso ovviamente non mi addentro nei dettagli tecnici perché non sono però volevo volevo insomma far presente un po' a tutti che in questo paese c'è un deficit profondo di cultura scientifica io credo che alla fine il problema serio e vero sia quello cioè il fatto che sapete adesso non voglio tornare a Benetto Croce a Gentile alle riforme della scuola ma certamente il fatto che una scuola faccia due ore alla settimana di scienza in un momento in cui la tecnologia è predominante non ci sia una cultura scientifica che faccia capire realmente qual è il valore della scienza la scienza quella seria quella vera in Italia c'è una scienza straordinaria anche se facciamo figuracce drammatiche in tutto il mondo continuiamo a essere con i pochi soldi che abbiamo mal pagati continuiamo a essere la sesta o settima potenza in termini di produzione scientifica al mondo e questo è un peccato in particolare sulle staminali siamo veramente molto avanti ci sono delle punte straordinarie di eccellenza in questo paese e secondo me questo deficit di cultura scientifica lo paghiamo tutti e lo pagano i ragazzi lo pagano che hanno la possibilità di non insomma che si iscrivono di meno alle facoltà scientifiche come sapete lo paga l'opinione pubblica che viene in qualche modo diciamo qui tirata di qua e di là dai casi staminali o da quant'altro non è il primo non sarà l'ultimo come diceva come diceva Gilberto e quindi benvengano anche questi festival i festival della scienza cioè i modi con cui ci si può confrontare ci si può parlare in maniera non ideologica in maniera seria tra persone che vogliono aiutarsi l'un l'altro a capire a capire di più e mi fa piacere perché raccontavo ieri sera a Cesare che c'è questo libro carino di Zygmunt Bauman che è uno più grande sociologo del mondo che si chiama il demone della paura che dice l'unico modo per essere veramente democratici bisogna essere ricchi e colti allora sulla ricchezza ovviamente in Italia insomma in questo momento diciamo così non è uno degli obiettivi primari però almeno cerchiamo di far sì che la cultura e anche la cultura scientifica perché la scienza è cultura non è cultura solo aspetto non è solo la cultura umanistica sia parte di noi sia parte di tutti i giorni perché se vogliamo veramente una società che sia equa e solidale secondo me dobbiamo creare una società della conoscenza cosiddetta e la conoscenza è gratis alla fine perché la possiamo comunque possiamo attingere a varie risorse quindi insomma cerchiamo di imparare cerchiamo di capire cerchiamo di esprimerci solo se sappiamo direi che questo credo possa essere il messaggio conclusivo che immagino tutti possiamo condividere grazie grazie a tutti buonasera vi invitiamo a unirvi a noi per l'incontro finale di leggendo mentre ponitano alle ore 22 al bassine San Remy le regole del regalo grazie grazie